E' iniziato il ritiro del Pescara a Palena. La squadra è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri nel comune del comprensorio Sangroaventino e da questa mattina ha iniziato a lavorare a ritmi serrati agli ordini di Luciano Zauri, che ha già preso confidenza col gruppo la scorsa settimana nel corso dei test effettuati al poggio degli olimi. L'allenatore di Pescina parla così di alcuni dei giovani di grande prospettiva che ha a sua disposizione. Circo purtroppo lo conosciamo perché ci ha fatto gol. Anche lui è un ragazzo che ha gamba, che ha voglia, quindi ha voglia di mettersi in mostra, eccetera. Un giocatore che ha poche partite, per cui è un giocatore che va inserito piano piano. Poi con i giovani non si può mai dire che il 98, un ragazzo che ha giocato uno o due anni e sta cercando anche la sua identità. Sicuramente è un giocatore interessante, quindi è un giocatore che vedremo all'opera nei prossimi giorni, le settimane vediamo. Di grazie alla stessa cosa viene da un anno di inattività, quindi ha bisogno chiaramente di allenarsi, di giocare con i compagni, perché allenarsi da solo chiaramente è un po' difficile. Etabì è un altro ragazzo che è in Italia da febbraio, per cui da poco, ha fatto poche partite con l'Atalanta Primavera, però è un giocatore che ha anche lui qualcosa, doti fisiche sicuramente, è un giocatore che ha molta voglia, la lingua in questo momento lo sta un po' penalizzando, perché chiaramente non parla italiano ma solo francese, per cui delle piccole difficoltà, ma a Canuté e Ndiaye che insomma parlano con lui e cercano un pochettino di insegnargli qualcosa. Sono 32 i convocati per il ritiro di Palena. Al momento all'appello mancano Ugo Campagnaro e Davide Vitturini, entrambi si aggregheranno al gruppo entro giovedì. Il primo di ritorno dall'Argentina, per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione da giocatore, prima di entrare nei quadri organici del Delfino. Il secondo invece reduce dal terzo posto con la Nazionale Azzurra alle Universiadi, ma che potrebbe nuovamente lasciare Pescara per una nuova sistemazione nelle prossime settimane. Valutazioni saranno fatte anche con le indicazioni dello stesso Zauri, che nel ruolo ha grande abbondanza, vista la presenza di Ciofani, Balzano e del baby ex Inter Zappa. Sicuramente sono in attesa di sistemazione in altre squadre i nove giocatori sotto contratto rimasti a Pescara e che continuano ad allenarsi agli ordini di Bruno Nobili, i difensori Fornasier, Malocu, Scalera e Diallo, i centrocampisti Tascone e Selasi e gli attaccanti Forte, Mancini e Morselli. Tra i convocati a Palena anche il centrocampista Massimiliano Busellato, per il quale si aspetta solo la ratifica dello svincolo dopo l'esclusione della C decisa dal Consiglio federale. Ma soprattutto Luciano Zauri attende con ansia Marco Tuminello. Nelle prossime ore l'operazione con l'Atalanta sarà perfezionata e il giocatore raggiungerà Palena. Al momento i centravanti sono i soli Bunino e il baby Borrelli. Domenica prossima alle 17, sempre a Palena, primo test con la Flacco Porto. Tornando al fronte mercato, in questa settimana il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti potranno riprendere i discorsi già intavolati col Napoli per Palmiero e Tutino. E in attesa di novità sul fronte sottil, il Pescara nel frattempo è piombato su Adrian Stoian. L'esterno offensivo romeno, classe 91, ha già indossato il bianca-azzurro nella stagione 2010-2011. Stoian, ex Bari, Chievo e Crotone, dopo aver militato negli ultimi sei mesi con la Steaua a Bucharest, ora è svincolato.